Sindaco Ferradino, da Legnini tre nuovi decreti, due dei quali riguarderanno Casa Micciola, non soltanto la scuola Lembo della quale abbiamo parlato più volte, ma anche il civitero monumentale, a dimostrazione di un'attenzione a 360 gradi. Intanto sono solo gli ultimi di una serie, perché Legnini qualche giorno fa ha fatto il decreto della colmata, la famosa colmata, c'è stato già il decreto del San Zeverino, quindi queste erano già passate, forse più in sordina, ma erano già passate, ma dietro questi decreti c'è un grandissimo lavoro fatto da questa amministrazione che in pochi mesi è riuscita ad ultimare le progettazioni e a passare tutti i criteri in conferenza dei servizi per tutte le autorizzazioni, sappiamo che necessitano comunque di tutte le autorizzazioni che prevede la norma, quindi sicuramente un grande segnale dato al mondo della scuola, perché finalmente dopo sette anni si comincia a ricostruire le scuole, due importantissime scuole, una a Valle, quindi San Zeverino nel Rione, l'altra a Monte, perché è giusto dare dei segnali anche lì. Verranno due scuole all'avanguardia, dove i nostri ragazzi potranno studiare finalmente in ambienti salubri, in ambienti idonei, dove potranno dare il meglio di loro stessi. Quindi ecco, stiamo seguendo il cronoprogramma che c'eravamo prefissi, probabilmente anche con un po' di anticipo. Sindaco, è chiaro che nell'immaginario collettivo l'aspetto più affascinante, no? Non c'è dubbio sia quello del waterfront, che per ovvi motivi più di ogni altro stuzzica anche la fantasia. Ma all'atto pratico cosa cambierà con questa rivisitazione dell'aria fronte mare del paese? Vabbè, intanto avrà un impatto forte, quindi si vedrà un grande cambiamento rispetto al passato, come restyling generale di un lungomare bellissimo, forse il più bello dell'isola, che però aveva tante problematiche. Una di quelle era proprio lo sconcio che c'era proprio in prossimità del Piemonte, dove al di sotto c'erano degli scogli, che erano ricettacoli di spazzatura, di topacci, c'era lo scolo delle acque quando c'era la pioggia, quindi fogna a cielo aperto, sulla spiaggia, ecco. È l'occasione anche per risolvere questi problemi seri, che andavano risolti, criticità importanti che da anni non venivano risolti, ma si coglierà l'occasione per banchinare questa parte, il che consentirà di avere una darsena nuova, e quindi un ampliamento importante per il porto, per la portualità che riteniamo possa essere turistica, perché c'è sempre, voi sapete che in quell'area già accogliamo i mega yacht, dobbiamo modificare sicuramente l'aspetto, ma anche l'efficienza dei servizi, quindi quando un turista, e soprattutto quel tipo di turisti, scenderanno a terra, troveranno un ambiente completamente diverso, idoneo, anzi, necessariamente diverso per un paese turistico come Casanicciola, rispetto al passato, e siamo sicuri che quindi aumenterà enormemente la PIL del nostro scalo.